Ciao ragazzi, oggi chi va vuoi per voi? In palo ci sono diversi prodotti della collezione China Doll di Pupa Non tutte magari lo sapranno, però oggi è stato pubblicato il mio video in collaborazione con Pupa dedicato appunto alla collezione China Doll ed io ho realizzato un look adatto alle ragazze more con occhi scuri Se non avete visto il video ve lo metto qui e mi fa piacere appunto se lo andate a vedere Sono molto contenta di aver realizzato questo video anche perché trovo che i prodotti siano davvero molto buoni e proprio per questo ho deciso di far provare anche a voi qualche prodotto di questa collezione Gli ho scelti vari, ho cercato di spaziare fra ombretti, matite, smalzi Il primo ombretto è il China Doll Eye Shadow numero 02 che è questo splendido viola Vedete è un viola ricco di riflessi sono dei colori che hanno una scrivenza eccezionale China Doll Eye Shadow numero 01 che è questo rosa anche questo molto molto luminoso perfetto per creare dei punti luce all'inizio dell'occhio poi due rossetti il Pupa Volume numero 404 che è questo splendido rosso molto 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 intenso lucido ma coprente poi c'è il Pupa Volume numero 405 che invece è sempre questo colore un po' tendente al prugna non saprei descrivervelo comunque riuscite a vederlo poi ci sono tre matite Multiplay la prima è la Multiplay numero 39 che come vedete è questo bel viola poi abbiamo una matita color cioccolato la numero 37 sempre Multiplay e poi questa sul bronzo numero 36 ecco queste tre ed infine abbiamo tre smalti eccoli vedete c'è questo splendido viola con dei riflessi blu davvero meraviglioso sono tutti quanti molto lucidi molto coprenti poi c'è questo rosso con dei riflessi sull'oro anche questo molto bello e molto particolare ed infine c'è questo rosso rosso bronzo un colore veramente molto molto singolare quindi cosa fare per aggiudicarsi questi premi basta essere iscritti al mio canale se lo siete già ovviamente non c'è problema se non lo siete trovate il tastino iscriviti qui su e potete lasciare da un minimo di un commento fino a un massimo di 5 commenti quindi da 1 a 5 commenti in cui potete scrivere tutto quello che volete o come sempre mi fa piacere se scrivete magari dei consigli sui prossimi video da realizzare per esempio Marta mi piacerebbe vedere un outfit Marta potresti fare una base viso insomma qualsiasi cosa qualsiasi consiglio spero che questo giveaway vi sia piaciuto io ho voluto farlo ho voluto appunto far provare anche a voi dare la possibilità ad una di voi di provare questa linea questi prodotti perché secondo me sono molto validi spero tanto che questi premi vi siano piaciuti vi mando un bacio gigante e ci vediamo presto ciao